Musica Buongiorno da Alessandra Bucce, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Un saluto anche a chi ci segue su Radio Bari. Il Palagiustizia ha le ore contate. Tra 20 giorni scade il contratto di locazione dell'immobile di Via Nazarianz. Il sindaco convoca una task force d'urgenza per la verifica di altri edifici che possano ospitare gli uffici giudiziari. I dettagli da Cristina Ferrigni. Ore contate per il destino del Palazzo di Giustizia di Via Nazarianz. A poco meno di tre settimane dalla scadenza del contratto di locazione con l'INAIL, l'istituto proprietario dell'immobile per il quale il Comune versa 122 mila euro ogni mese. La destinazione degli uffici giudiziari potrebbe essere definita nella task force di oggi, nominata dal sindaco Michele Emiliano e guidata da Vito Leccese, incaricato dal primo cittadino ad individuare gli immobili per ospitare il Tribunale. L'ipotesi più probabile è che il Comune decida di indire una ricerca di mercato, allargata da Vito Leccese e di indiscrezioni. Secondo indiscrezioni, in base ad una prima verifica effettuata dall'assessore al patrimonio del Comune, Cinzia Mascio Pinto, nessun edificio sembra corrispondere alle richieste del procuratore capo Antonio Laudati e in generale degli operatori della giustizia, magistrati e avvocati, che in corunanime chiedono una soluzione definitiva. Un unico polo della giustizia che restituisca dignità alla professione, come ha dichiarato ai nostri microfoni l'avvocato Guglielmo Starace. Noi come Camera Penale abbiamo sempre propugnato l'idea dell'accorpamento generale per evitare i disagi che sono notevolissimi per la professione dell'avvocatura e credo anche per tutti gli operatori, in particolare per gli operatori di cancelleria che quotidianamente trasferiscono moli di carte con notevoli rischi per naturalmente la sicurezza e il mantenimento degli atti. Tra le ipotesi avanzate fino a questo momento per la destinazione degli uffici della procura si parla di un complesso di palazzi in via Mendola, dell'ex ospedale Bonomo, in corso al Cide De Gasperi, anche del direzionale del San Paolo. Ma oggi, a 20 giorni dalla scadenza del contratto di affitto, improrogabile, gli uffici giudiziari restano ancora lì, nell'immobile di via Nazarianz. La cronaca, la banda del buco torna in azione, questa volta a farne le spese all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. In mattinata i gnoti si sono introdotti negli uffici del servizio di soccorso del 118 approfittando dell'assenza dei responsabili e forzando la porta d'ingresso. Sul posto è intervenuto un medico della struttura e successivamente gli agenti di polizia. Un altro furto poi è stato messo a segno in un appartamento di via Sagadiga a Visconti. La pagina politica regionale 2010 prende sempre più piede all'interno del centro-sinistra l'ipotesi di una sfida. Emiliano Mendola, sentiamo. Candidato presidente cercasi se gli accordi sulle alleanze sembrano ormai decisi dopo l'incontro tra Bersani del PD e Casini dell'UDC. Il nome dell'aspirante alla presidenza della regione Puglia per il centro-sinistra è tutt'altro che definito. Messo da parte il governatore uscente Mendola, che appare tutt'altro che sconfinato in un angolo pronto, come più volte dichiarato, a correre nonostante tutto e contro tutti, la posta in gioco per la coalizione di centro-sinistra è sempre più alta, tanto quanto l'ipotesi di una sconfitta. Se vendola fino ad ora nelle mani del PD ha rotto gli indugi, ora, come ha detto il presidente del PD pugliese Emiliano, sono loro ad essere nelle mani del rivoluzionario gentile. A lui più volte è stata rimessa la decisione di indicare un suo successore, richiesta prontamente rispedita al mittente. E allora il cerchio si stringe, probabilmente sul sindaco Emiliano, che tuttavia non perde occasione per ribadire che scenderebbe in campo solo se glielo chiedesse Mendola. Un'ipotesi a quanto pare ormai definitivamente tramontata. Dunque la scelta rimbalzerà Roma e se dalla capitale dovesse arrivare il diktat Emiliano candidato presidente, sarà difficile che il primo cittadino possa sottrarsi a scelte di partito. Chissà quanto e se pagherà il Mendola, fatti più in là, invocato da un centro-sinistra oggi, più che mai spaccato. L'utilizzo del social network e l'impatto del web sulle piccole e medie imprese. Se ne è parlato oggi a Bari in un convegno organizzato dall'Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Direzione e Organizzazione. Ce ne dice di più Cristina Ferrigni. Social network, blog e web 2.0 sono le nuove dimensioni di internet in grado di modificare il mondo della comunicazione e dell'economia con un forte impatto sulle piccole e medie imprese. Se ne è parlato oggi a Bari in un convegno organizzato dall'Università e dall'Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Direzione e Organizzazione presieduta da Francesco D'Aprile. Web 2.0 per le imprese, per le piccole e medie imprese, per il nostro tessuto imprenditoriale significa soltanto opportunità. Opportunità per poter aggredire un mercato che ha a disposizione è una potenzialità enorme dei consumatori che hanno bisogno di confrontarsi per testare il gradimento, che sviluppano comportamenti di acquisto completamente diversi dal passato e che attraverso la tecnologia riescono ad avere quel sistema di garanzie che le rende, che consente loro di procedere i nuovi acquisti anche sofisticati in una condizione di maggior raggiatezza. Siamo alla pagina di Cultura e Spettacolo, presentato dalla provincia di Bari il concerto di Natale quest'anno dedicato alle fasce deboli. Sentiamo. Che il Natale sia festa per tutti e questa è la vocazione del concerto organizzato dalla provincia di Bari. Il 23 dicembre al Teatro Team Fiorella Mannoia, accompagnata dall'orchestra sinfonica della provincia di Bari eseguirà alcuni classici della sua discografia, da come si cambia a quello che le donne non dicono per un pubblico ampio. Le prime file non saranno destinate ai soliti vippo, nomi di chiara fama, molte poltrone e circa la metà saranno riservate alle fasce deboli, come ci spiega il vicepresidente della giunta provinciale, Nuccio Altieri. È rivolto proprio a tutte le categorie sociali più deboli e che solitamente non possono festeggiare il Natale con eventi così belli. Quindi questo è destinato alle associazioni di diversamente abili, degli anziani, delle famiglie magari che hanno più bisogno e che grazie al lavoro delle parrocchie riescono ad avere un minimo di sostentamento. Di conseguenza dei 2000 posti del Teatro Team la maggior parte saranno destinati alle associazioni, una parte invece saranno messi in vendita ad un prezzo assolutamente irrisorio per un concerto del genere, più o meno quello di un biglietto del cinema, intorno ai 10 euro. I biglietti a costo sociale, che vanno da 8 a 15 euro esclusi diritti di prevendita, saranno acquistabili già da domani presso il botteghino del Teatro Team oppure online. Questa è un'iniziativa che farà da pripista ad altre che vogliono rendere la cultura a portata di tutti. Sempre per il periodo di Natale abbiamo tipo al Teatro Purgatorio, al Teatro Duse, nel Centro Sociale per Anziani del Libertà in Via Trevisani, a Sampio, varie iniziative proprio nei luoghi quelli storici dove ci sono le categorie più deboli e che spesso questa città ha dimenticato. Teatro Petruzzelli, una storia da raccontare. Il titolo dell'opera multimediale è presentata questa mattina. All'interno una monografia sul Teatro Petruzzelli scritta dal nostro Michele Cristallo. Sentiamo. Un viaggio nel tempo del Tempio della Cultura, una storia da raccontare, quella del Teatro Petruzzelli è raccontata attraverso parole e filmati che portano alla firma del giornalista Michele Cristallo, autore di una monografia sul Politeama barese tra vecchi e nuovi lustri. Un recupero filologico e di restauro di oltre 2.800 cassette dall'archivio video del Teatro selezionate per un'ontologia che va dalla storia, alla lirica, alla danza, alla musica. I quattro DVD dell'opera multimediale, in vendita tra due giorni a Bari, saranno accompagnati in un viaggio alla riscoperta del Petruzzelli che fu e di quello che sarà dal commento di Michele Cristallo. Io nel libro racconto le origini del teatro, perché è nato, come è stato costruito, con quali motivazioni e poi tutta una serie di curiosità, di aneddoti che, come dire, identificano anche uno sfaccato della società barese dagli inizi del Novecento sino alla sciagurata notte dell'incendio che ha distrutto il teatro. Inevitabile un parallelismo tra il Petruzzelli di ieri e il Petruzzelli di oggi. Negli anni Ottanta il Politeama barese si era imposto sulla scena nazionale e internazionale. Oggi questa è un'ambizione ancora da percorrere. Ci stiamo riuscendo? Il Petruzzelli ha sempre avuto un ruolo di primissimo piano, non soltanto negli anni Ottanta ma anche prima. Ricordiamo che ha ospitato i maggiori nomi della lirica e del teatro. Quasi tutti sono passati di qui. Negli anni Ottanta ha avuto molto impulso anche altre espressioni artistiche, tipo la danza. Di qui sono passate le etuale più prestigiose del mondo. Adesso è cambiata la società, sono cambiate anche le esigenze, è cambiato il gusto. Quindi il Petruzzelli torna a rivivere però sulla scorta di quella che è l'esigenza del pubblico di oggi. Siamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. C'è il cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, temperature comprese tra 8 e 12 gradi, venti forti da nord ovest, mari agitati. E' tutto, vi ricordo i nostri indirizzi internet www.telebari.it e radiobari.net. Il telegiornale termina qui, grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Grazie per aver guardato il video.